Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, allora è già finita la raccolta dei punti per avere i peluche peanuts però siamo riusciti ad averne uno, non abbiamo cop vicine quindi ci hanno aiutato e eravamo curiosi di vederlo quindi c'erano anche le ciotole per i cani, l'abberatoio portatile, ti ricordi tutte le cose legate a? c'erano i peluche di Snoopy, di Woodstock e Charlie Brown, in questo caso vi dico, ho scelto io, perché io adoro Charlie Brown Charlie Brown è disegnato a Schultz e quindi lo abbiamo preso, ce lo siamo fatti prendere ed è veramente fatto bene devo dire complimenti, la scelta dei peluche è veramente ottimo, qui vediamo la certificazione che è originale praticamente questo ed è veramente veramente carino, non vedo se ci sono, no ovviamente, beh c'è un po' la gamba è scopribile quindi il pantaloncino è scopribile, non è stampato ma è ricamato e questo è un valore aggiunto dei peluche anche qua, invece la maglietta, vabbè quello ovviamente è stampato, ma devo dire che è un ottimo ottimo prodotto devo dire che se i peluche si fanno così sono felice, quindi era un'iniziativa della COP in questo caso non mi ricordo più quanti punti servì, 20 punti ma come si raccoglievano non me lo ricordo sinceramente ma è anche vero che essendo scaduta, ti faccio una domanda, se con questa qualità perché sono veramente belli non ho fatto ancora la domanda, dovessero fare una linea di peluche Ariel Stitch quindi Disney quindi Disney, è che mischiare Stitch e Ariel non credo lo faranno mai quindi diciamo o principesse Disney o diciamo Stitch e mostri Disney in generale Disney in generale, e tra i Disney in generale sceglie ne sei Ariel, Stitch, Merida, Rapunzel quindi stop, tre principesse e gli altri devono essere tre personaggi diversi, quindi Stitch poi Le Foglie dell'Imperatore Le Foglie dell'Imperatore chi? Cuscolama Cuscolama, bellissima idea Cuscolama E il film si chiama Le Foglie dell'Imperatore Sì sì no ma pensavo che quale personaggio, ho pensato i due al re, peluche del re, no invece del lama ci sta e poi Chicken Little, è carino come peluche anche se come personaggio Ah non so poi neanche che fosse Disney Bene, lo dobbiamo riguardare allora Ma valgono anche i Disney Pixar? Certo Allora io non so ma Inside Out è Disney Pixar o Pixar? Pixar Disney Pixar sì Allora Inside Out Gioia l'hanno già fatto L'hanno già fatti anni fa E quelle nuove tipo Ansia e Invidia Ok E se invece dovessero prendere un cartone animato solo? Sì Tutto sti... Ah beh, uscendo live action a breve, tra meno di un annetto potrebbero fare qualcosa legato all'uscita del film Stitch Va bene, noi aspettiamo, comunque complimenti per aver scelto questo tipo di pupazzo E vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, ve lo dice anche Charlie Brown E come sempre Noi vi saldiamo e ci vediamo al prossimo video Ciao